No, salve! No, perché sai, siccome sto perito sotto carnevale, stiamo a girare un po' tutta l'Italia, io e Tatiana... Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Tatiana? Tatiana è l'amica mia quella grassa, talmente grassa che per sognarla tutta devo dormire tre giorni. Insomma, prima tappa, Venezia, come arrivamo, l'amichetta mia è caduta in un canale, l'ho otturato. Il canale è esondato e tutti a gridare, oh, c'è stata piena a piazza San Marco, è arrivato un gondoliere, chi c'ha asciugato il canale? Dopo, dopo otto giorni, dopo, no, che otto giorni, dopo otto ore che stavano castrata hanno chiamato il Greenpeace, hanno detto, correte, c'è stata una balena che deve essere disincagliata. E' arrivato un giapponese, si è affacciato, blutta, blutta, proprio blutta, ah, la popolare mostra di Venezia, io, io non ci ho visto più a quel punto, io ho fatto, ah, zafferano! Guarda che io, guarda che io, guarda che io ti buco 500 lire dentro all'occhio e ti uso come carrello per la spesa, capito? Ma ha gonfiato de' botte! Ma, ma ha gonfiato de' botte, ma ha gonfiato! E' una cintura nera, quarto dan, e infatti mi ha fatto un sacco de' dan, bocca! Allora, sai che c'è a Monti, ci sono una mafiareggio, una mafiareggio, il giorno prima della sfilata arrivamo, come vedono l'amichetta mia, fanno, ah, i cari escono domani! Io, cominciamo bene, cominciamo! Il giorno della sfilata io mi sto vestita da colombina, amichetta mia si è vestita da pantalone, balanzone, allecchino, puccinello... Da Giandui a Nohater dice che fa venire i brufoli, a un certo punto arriva Zorro, mi fa una zetta sulla panza, io... Ma, ma... Io, io, allora mi sono dovuto un po' qui a tanzare, come mi ha insegnato Gregor... Chi è Gregor? Chi è Gregor? Ma che cazzo lo so? No, Gregor è colui che se vede una mamma piangere, un bimbo soffrire, un vecchio che sta male, cambia subito canale! Io ho fatto a quello là, io ho fatto con tutta la mia, la mia flemma inglese... Oh, azzoro! Te do un cazzotto in testa così forte che faccio tornare la parola al tuo servo muto! Allora, si è levata la maschera, era il giapponese di Venezia! A cintura nera! Ma ha fatto nera pure a me! Allora che fanno, che non fanno, che fanno, che non fanno? Siamo andati a Ivrea! Come siamo arrivati a Ivrea se scatenano la guerra delle arance? Ma ci hanno riempito d'arancia e pum pum pum! All'amichetta mia gli è arrivata un'arancia all'ombelico e ce l'ha scritto dance and party! Io ho piato il primo che mi trovavo perché mi dovevo sfogare, gli ho fatto io te fai, io te... Che te fai? Io... Levate la maschera! Levate la maschera! Non è che fai karate, eh? Non faceva karate però c'aveva una cassetta d'arancia e me l'ha sfonata in faccia e poi dicono che la frutta fa bene! Vero a me piaci! Grazie! Grazie!